Cari amiche e cari amici, buongiorno e bentornati sul canale. Volevo aggiornarvi sulla giornata di oggi a Rimini per il caso di Pierina Paganelli. Questa mattina all'incirca verso le 10, Loris Bianchi si è presentato davanti al procuratore Paci, dove ha rilasciato le sue dichiarazioni, il dottor Paci stesso ha voluto sentire dei dettagli inerenti a certi orari, a certi spostamenti, poi verso le 11.30 tranquillamente Loris è uscito, si è fermato dai giornalisti a rilasciare delle sue opinioni, dove lui dice che Loris comunque per lui non è ancora colpevole fino a che non si arriverà a un terzo grado di giudizio. Ma nel frattempo dice anche che se ha sbagliato è giusto che paghi sia che è un amico o che non lo sia. Finita la sit di Loris è stata riconvocata Manuela per concludere la deposizione che è iniziata ieri, quindi avrò ancora qualche ora di chiacchierata con il procuratore, dottor Paci e anche lei. Stiamo a vedere cosa ne uscirà fuori a fine giornata, state sempre sintonizzati sul canale, io vi terrò aggiornati. Per ora, buona giornata.